ci ha mai fatto caso su facebook sembra che tutti la pensino come te o per meglio dire che ben pochi la pensino diversamente e quante volte cercando su google argomenti controversi hai trovato come primi risultati degli argomenti opposti alla tua visione quasi mai sicuramente bene questa la cosiddetta bolla di filtraggio nel quale viviamo su internet motori di ricerca e social ci conoscono e ci mostrano per prime le cose che più si avvicina ai nostri interessi alle nostre idee e i nostri orientamenti mettendo in secondo o terzo piano tutto ciò che all'opposto facebook lo fa basandosi sulle interazioni sulle pagine che seguiamo e sulle reaction sì perché il sistema delle reaction è un bel metodo per capire cosa ci piace cosa ci diverte cosa non ci piace cosa ci fa arrabbiare e così via quindi un ottimo modo per affinare la conoscenza di noi con google il discorso è simile ma è molto più più vasto e comprende molti più strumenti tramite cookies e profilo utente sa benissimo se siamo novax cospirazionisti o credenti o una qualsiasi altra cosa e tutto l'ecosistema di google si basa proprio sulla conoscenza che ha di noi e siamo noi stessi dirglielo tramite le nostre email se usiamo gmail dal nostro smartphone android dalle ricerche che facciamo su google dai podcast che ascoltiamo su google podcast e così via uscire dalla bolla di facebook è difficile in linea del tutto teorica bisognerebbe tentare di confondere l'algoritmo iniziando magari a seguire pagine opposte mettere like a post che non ci piacciono magari dovremmo anche commentare tutto l'opposto di ciò che vorremmo e probabilmente non servirebbe molto finiremo per sbilanciare dal lato opposto e sempre nell'ipotesi che l'algoritmo si lascia abbindolare così facilmente dall'oggi al domani di sicuro i nostri amici ci prenderanno per amati per le ricerche su google la questione è molto più semplice ed è integrata nel programma che usi per navigare si chiama modalità incognito cercala la ce l'hai sicuramente magari con un altro nome su firefox su edge su chrome e così via e questa modalità che sono sicuro che tu conosci non serve solo per guardare i siti per adulti senza lasciar traccia nella cronologia nel computer è utilissima per uscire un attimo dalla bolla e trovare risultati che altrimenti sarebbero messi in secondo piano se non addirittura in terzo fai una prova apri il tuo browser cerchi un argomento e poi lo ricerchi con la modalità incognito attiva vedrai che i risultati saranno differenti in in contrapposizione a questa bolla è doveroso citare duck duck go è un motore di ricerca che sulla carta fa della privacy la sua arma vincente di fatto la bolla non viene creata perché non viene memorizzato nessun dato dell'utente e nessun cookies viene memorizzato sul computer dell'utente soppiantare google nel campo della ricerca è comunque una sfida dura ma duck duck go sta portando avanti la sta portando avanti abbastanza bene ti devo però svelare anche il segreto di pulcinella le compagnie che trattano i cosiddetti big data ci conoscono meglio di nostra madre dobbiamo farci una ragione anche perché siamo noi stessi a dirgli tutto di noi ogni giorno le nostre preferenze sono infatti il prezzo da pagare per la comodità ma di questo ne parleremo in una prossima puntata mi limito solo a riportare un vecchio adagio del web che recita se un servizio gratuito allora il prodotto in vendita sei tu e facebook e google sono la prova di quanto questo sia vero bene questo episodio si conclude qui ma ti ricordo che su tecnoriflessioni puntocom potrai trovare le note e gli approfondimenti fammi sapere cosa ne pensi ma non prima di aver ascoltato la citazione della settimana la privacy non è un'opzione e la sua perdita non dovrebbe essere il prezzo che accettiamo solo per stare su internet gary kovacs ciao